Baciamama Marco un bersaglio, è vicino a quel civile E' indietro, ti vedono Drone in bordo Forse hanno trovato un corpo Che c***o si spera A partire da madre con toro A c***o si dirigono da questa forte Che c***o ha riparo Granata, via Sperto Granata, via 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 Che c***o Che 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 Vedo un capitano Abbiamo preso l'elicottero Nemico a terra Libero, voi tutto bene Non sanno che non siamo più lì Vanno nella direzione sbagliata Ok, a posto Vanno nella direzione sbagliata 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 Grazie a tutti. Hanno rinforzi. Ci cercano nel posto sbagliato. Per un peso. Ehi, c'è un arco. Ci siamo. Una volta nella fabbrica, distruggiamo i sistemi di controllo e le scorte di cocaina. Poi, tagliamo la corda. Entriamo e spacchiamo tutto. Ricevuto. E' un sistema di difesa aerea. E' un sistema di difesa. Un momento, c'è una cassa d'armi. Bene. 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 Grazie a tutti. Giù, ti stai facendo scoprire. Che bello. Qui c'è un arco. Elicoptero unità, vicino al container. Occhio. Giù, a terra, elicottero. Elicoptero unità. Ok, ci siamo. Prima la sala di controllo. Prima la sala di controllo. Prima la sala di controllo. C'è un sicario? Ditemi dove. Là, di fianco alla torretta. Ok. 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 I controlli sono andati. La fabbrica sarà ferma per mesi. E adesso? Ispezioniamo i magazzini. Distruggiamo tutte le scorte di cocaina e poi ce la filiamo. Ricevuto. 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 Appesioniamo. Ricevuto. Ehi, c'è un arco armato con un mitra, di fianco alla pila di pneumatici. Ehi, c'è un arco armato con un mitra, di fianco alla pila di pneumatici. Ehi, c'è un arco. Nei pressi del parcheggio. Porta aperta. Distruggere la sala di controllo avrà sbloccato le altre. Sedacciate l'edificio e distruggete tutti... Un momento. Apro il fuoco. Oh, ecco, ci hanno visto. C'è una scorta. Distruggiamola. Pensiamo alla missione. Setacciate l'edificio e distruggete tutte le scorte che trovate. Roger. Elicottero, giù, giù. Che chingado si spera. Ma partire da madre con todo. Vamos a enseñarles ten manda. Dispare! Merda, vengono da questa parte. Che facciamo? C'è un bel sogno con mitra. Chinganselo! Arriva un elicottero. Chinganselo! Elicottero, a terra! A terra, elicottero! C'è un bel sogno. Grazie. Grazie. Grazie a tutti verso di noi. Che facciamo, capo? Granata! Come mierda, culeros! Puta madre! Algo acaba di stagliare allì! Esos pendejos deben di stare allì, seguro! Cosa staglia di spazio? No! Il problema è uguale... Il problema, è così molto importante. Non c'è questo problema, non c'è questo problema. Non c'è? Cosa staglia di spazio? Cosa staglia di spazio? Perchè? Diciamo! Cosa staglia di spazio? Cosa staglia di spazio? Grazie a tutti. Abbiamo finito, tutto ok. Granata, prendete questa! La distrutta, andiamo. Sembra che altri sicari vogliono prenderli. Vengono dritti verso di noi. Vengono dritti verso di noi. Vengono dritti verso di noi. E' meno male che suoni l'allarme Ne arrivano altri Apre il fuoco Uomo a terra Uomo a terra Uomo a terra Presto Uomo a terra Cazzo domani farà un male cane Ci sei? Arrivo subito Grazie Ho intenzione di lasciarmi di sanguore Uomo a terra Sembra in corto, andiamo Vedo una scorta di cocaina Granata 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 Sarà molto incazzato E l'emissario si sentirà con le spalle al muro Dovrà uscire allo scoperto A quel punto sarà nostro Dovrà uscire allo scoperto Grazie a tutti